Musica Amici di Onda Libera siamo nella sala del concordio del comune di Fano in compagnia di Massimo Vassallo. Massimo Vassallo è uno dei fratelli di Angelo Vassallo, il famoso sindaco pescatore, morto tragicamente per fatti di mafia, anche se ancora non è stato puntualizzato definitivamente chi sia stato a uccidere Angelo Vassallo, però è nato attorno a una mentalità di tipo mafiosa, di tipo camorristico. I fratelli tutt'altro che intimiditi, Dario e Massimo, Massimo è con noi e Dario è l'altro fratello, tutt'altro che intimiditi da questa vicenda hanno iniziato un'intensa attività per divulgare il concetto e la cultura della legalità. Hanno creato una fondazione intitolata appunto ad Angelo Vassallo con la quale stanno girando in lungo e in largo l'Italia. Allora Massimo, parlaci un po' di questa fondazione, delle finalità che vi siete posti e dell'attività che state svolgendo. Buonasera, la fondazione nasce dopo tre mesi alla morte di Angelo, il 5 dicembre del 2010 e nasce per un motivo ben preciso, il motivo è che non si poteva comunque lasciare l'operato di Angelo così che andasse nel dimenticatore appunto tale. Quindi con Dario e la moglie di Angelo abbiamo messo su questa fondazione e sono passati cinque anni e qualche mese dal 5 dicembre del 2010 data di nascita, abbiamo girato l'Italia lungo e largo, parliamo di legalità ma soprattutto parliamo dell'operato di Angelo, parliamo di quello che lui ha fatto e che la cosa più bella è che quello che lui ha fatto sembrerebbe ai più quasi inverosimile. Dimostriamo e raccontiamo ai giovani delle scuole che amministratori onesti ci sono sul territorio e che possono tranquillamente vivere e svolgere il loro lavoro fino a quando poi non inizia a dare fastidio a dei poteri che magari sono più forti di quello che tu immaginavi. La fondazione punta molto sui giovani quindi fa molti incontri anche con le scuole, oggi stesso a Fano questa mattina ha avuto un incontro all'istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro, molto partecipato con dei ragazzi attentissimi che l'hanno seguita per un paio d'ore. In base all'esperienza avuta con l'incontro di questi giovani come vede la risposta delle generazioni nuove in merito al concetto di legalità, al concetto di stato di diritto eccetera. I ragazzi per fortuna reagiscono sempre positivamente ogni volta che si parla di legalità, ma bisogna partire da un punto precedente. La legalità si porta all'interno delle scuole grazie soprattutto all'impegno di pochi professori. Si preferisce dedicare il tempo ad altri progetti, si preferisce andare a fare la gita fuori porta, si preferisce andare a guardare qualcosa di diverso. Per fortuna è che ci sono insegnanti bravi che hanno nel cuore la legalità e questi progetti riescono a portarli avanti anche contro magari la volontà del dirigente o comunque contro facendo delle lotte anche all'interno dello stesso istituto. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto attenti e ringrazio Paolo Pagnoni per avermi invitato perché oggi è l'ennesima dimostrazione che quando si parla di legalità ai ragazzi questi sono non attenti, sono di più, nel senso che se ne parla troppo poco e se ne parla sempre in maniera astratta. Il passaggio fondamentale è quello di portare loro un esempio, un esempio di qualcosa che si è verificato. Vuoi un familiare di una vittima di mafia, vuoi qualcuno che è stato ricattato, qualcuno che è stato assoggettato a pizzo, a tanti altri atti intimidatori. Quindi nel momento in cui tu ti presenti in una scuola con un esempio vivente sicuramente i ragazzi ti ascoltano e stanno lì con la bocca aperta a sentire le tue parole. Nel momento invece in cui parli di legalità, gli dai la definizione di legalità, gli dici che cosa significa, è normale che dopo 5 minuti tendano a dedicare la loro attenzione ad altro. Bene, grazie e complimenti per l'attività che state svolgendo, è un'attività veramente importantissima in un periodo storico come questo soprattutto. Grazie a voi, grazie. Amici di Onda Libera, un saluto.